Ciao a tutti, eccomi qui e bentornati in un nuovo video. La luce è un po' quella che è, non ho voglia assolutamente KO, non ho voglia di alzormi, non ho voglia di fare niente, c'è un casino assurdo perché devo fare ancora il cambio dell'armadio e c'è un caldo osceno, quindi ho buttato tutto per terra, veramente, c'è un disastro, un disastro. Poi non lo so, ma sto arrivando veramente a sera che sono stanchissima, ho un lavoro in meno, però nonostante tutto sono KO o forse perché appunto avendo il lavoro in meno mi sto, tra virgolette, un po' riposando, diciamo così, e quindi mi è venuta addosso tutta la stanchezza del periodo, però, cioè è un macello. Comunque, volevo farvi vedere un pochino di acquisti che ho fatto in questi giorni, bene. Che così almeno sistemo un po' la faccenda. Allora, ah, intanto vi volevo dire di questo qui, di questo burro cacao qua di Alchemilla, che è buonissimo, la profumazione è fantastica, però è molto, molto, molto secco sulle labbra, si fa fatica da stendere, a stendere, però devo dire che tutto sommato lascia le labbra morbide, nonostante tutto. Quindi penso che al prossimo ordine che di Bio Vegan Shop magari ci butto dentro a qualche altra profumazione, insomma. Comunque ce l'ho sempre in giro con me. Poi, sono stata da Coin e li hanno lo stand Essence, di solito è quello tenuto meglio perché all'OVS è un porcaio, proprio detta così. E vedete questo qua è sacchettino, però non avevano molto, ma ho preso quel poco che avevano sostanzialmente. Allora, ho preso, stavo pensando se alzarmi e tirare su, però dopo c'è troppo sole, quindi non vorrei che fosse peggio. Vabbè, proviamo così. Comunque ho preso questi due smaltini della linea gel, sì anche l'altro. Questo qua è rosa ed è il numero, non si sa, no no, 09 Lucky, ed è questo fluo, proprio rosa fluo, come lo vedete. Dall'immagine. E ho voluto prendere, perché ce l'ho qua addosso, vedete, ha un sacco, guardate questo lucido che vedete, sono tutti glitter, sostanzialmente. L'avevo provato, ecco. E questo qui è il numero 07 Party Princess ed è pieno, pieno, pieno di glitter, guardate, eccoli lì, li vedete da qua. E' tutto, tutto glitter. Io pensavo fossero quei classici smalti glitter trasparenti dove non si vede un tubo e invece lascia un pochino di rosa e lascia un bel po' di glitter. Quindi io pensavo magari di usarlo comunque in combo, nel senso che per quanto riguarda l'anulare faccio la base così e sopra ci metto questo qua e magari anche il pollice, adesso vediamo comunque. E invece lo smalto che sto indossando, questo color fondotinta, sostanzialmente color nude, è quello che avevo fatto vedere nel video di Primark. E' di Primark appunto, della linea nudes. E ce l'ho addosso da sei giorni. Oggi è venerdì e l'ho messo su sabato prima ed è, ragazze, cioè veramente, non so se è perché io ho ancora un po' di base sotto del semi permanente che mi ero fatta e quindi mi dura così tanto o se è proprio lo smalto di per sé perché di solito non mi dura un tubo, ma è lo smalto. Forse magari è perché è ancora sotto la base, probabilmente. Però è fantastico, cioè dura un sacco. Come colorazione, subito quando lo stendete non è che sia il massimo, ma poi si ossida e fa proprio effetto pelle, ecco. Comunque, quelli lì, questi qua, sapete che Essence non mette mai, cioè quando ci sono gli scontrini non mettono mai il cosa cavolo corrisponde. Quindi sostanzialmente come faccio a recuperarlo? Bene, non lo sarei dovuta scrivere da qualche parte perché ci sono i codici a barra ma non corrispondono a una beata Eva. Oddio, 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 oddio. Vediamo. 25, può essere? No, perché ci sono degli zeri. Bene, sono contenta di questa cosa comunque. E non vi posso dire quanto costa, no? Boh, vediamo se dopo riesco magari a risalire a quello che avanza nella fine. Poi, siccome tanti ne parlavano benissimo di questo qui, ho voluto provare il correttore camouflage. C'era o Livori o Nude, io ho preso il Nude perché secondo me era leggermente un po' più scuro del Livori. Qua dice correttore viso alta coprenza. Vabbè, l'inci lasciamo stare perché ovviamente l'inci è orribile. Però mi serviva un correttore un po' così da pochi soldi e vabbè, questo è quello che passa al convento. Però veramente, in tantissime ne hanno parlato molto 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 bene, quindi... Adesso io sto usando quello, l'istant age, no? E mi trovo veramente bene. Però appunto, volevo qualcosa un po' così da battaglia e non vi sto a dire... Boh, forse è quello a 3,79 o 2,99? Secondo me è questo a 2,99 e questo a 3,79. Comunque è un macello qua, cioè veramente io non capisco perché non fanno gli scontrini come si deve. Vabbè. L'altro prodotto che ho preso è Moonlight Ice Cream and Shadow. Oggi non ce la posso fare. E questo qui è il numero 03 Cosmic. Che schifo, c'era un capillo attaccato che non era neanche mio, tra le altre. Ed è questo fantastico, secondo me è il duochrome, anche quello di, come si chiama, Urban Decay, Solstice, Solstice o qualcosa del genere. Comunque, ha una consistenza stranissima. Non si vede tanto, infatti la ragazza che ho visto su YouTube diceva di metterlo sotto a qualcos'altro, però mi piace molto 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 il colore. Ma qua non si vede veramente un tubo. Niente, provo a tirare sulla tapparella. Vediamo se così riuscite a vedere meglio. Comunque, questo qua ha il colore. Sì, lo vedete leggermente meglio. Ma è pieno zeppo di glitter. Guardate che roba che è. E vi stavo dicendo appunto di usarlo come una base. Però secondo me è il dupe di Urban Decay. In assoluto. Se mai farò un video... L'avevo già fatto comunque i video su questi qui. Non ce la posso fare. Su questi duo chrome. Magari lo rifaccio inserendo questi qua, capendo anche il prezzo, così vi dico i prezzi in maniera un po' più corretta. E poi ho preso una serie di matite, tra cui alcune, me le ricordo, erano in offerta a 1,29 euro. Le altre poi è tutto intorno a 1,89 euro. E le più care 1,99 euro. Anzi, secondo me... 1,99 euro e 1,99 euro... No, 1,99 euro e 1,99 euro sostanzialmente, secondo me, sono gli smalti. E il resto delle matite devono essere a 1,89, tranne quelle da 1,29, perché 1,2,3,4 e 5. Allora, quelle da 1,29, sì, giusto. Quindi gli smalti sono 1,99. Ce la possiamo fare. Quelle da 1,29 sono queste qui due. Le Extreme Lasting Eye Pencil Waterproof 16 ore. Non le avevo mai, mai viste. La verde è la 07 Mermaid for Life e quella viola è la numero 08 Rater B a Unicorn. Io giuro che non le avevo mai viste. Ma mi piacevano un sacco queste colorazioni qua. Ed effettivamente poi, quando mi sono andata a struccare lì in negozio, non era poi così male, nel senso che non sono poi venuti via così tanto bene. Quindi speriamo, ecco, ma perché... Eccole qua, qua le riuscite a vedere. Secondo me ho anche il vetro unto del telefono. Comunque, vabbè, quella è una cosa in più. Beh, è pieno, pieno di glitter. Io, ragazzi, ve lo straconsiglio perché è molto, molto, molto luminoso. È proprio... È pienissimo di glitter. Ho glitter dappertutto. Poi ho preso la matita verde Long Lasting Eye Pencil 32 Go Green, che è questo verdone acido qui. Questo qui, sostanzialmente non si vede un tubo. Portate pazienza, non ho capito per quale motivo oggi è così. E sono quelle automatiche. Sì, dai, forse così la vedete un po' meglio. Poi, sempre per quel... Ma mi sa che alla fine sono tutte automatiche, quindi zero, non vi dico più niente. Ho preso della matita labbra, invece, Draw the Line Instant Color Lip Liner with... Ah, sono quelle, appunto... Ma se mi dicono il numero... Ah, 11 Cherry Sweet. Sono anche mezza accecata. Ed è questo colore qui. Ciliegia, appunto. E l'altra, sempre per le labbra che ho preso, sono queste qua col tappo nero. 10 Pink Candy. Ed è questo rosa super fluo. Praticamente. Mi piace. Quell'altro più su un bordeaux, non è male. Devo... Devo provarla in questi giorni. Queste sembrano simili o uguali, ma non è così. Ma cambia leggermente. Sono le Long Lasting Eye Pencil, sempre. Solo che, questo è il 31, rosi e goldi. Sono metallizzate. Vedete? Non vedete? Oh, mamma mia. Questa, vedete? Eccola qui. Sembrano tipo dorate, no? Però una, effettivamente, tende ad essere più sul giallo. E l'altra tende ad essere più sul oro rosa, tipo, vedete? Non vedete un tubo. Comunque, ecco. Fidatevi. Sulla parola. Oggi gira così. Non mi piacciono tanto queste qua automatiche, perché spesso la mina si rompe. Però ho visto che le stanno facendo solo così. La quale, vedete? Questa tende a rosa e questo tende all'oro. Vabbè. E qua ci siamo. Poi sono stata da Lidl. Ho comprato questa maglietta qui. Ho preso una L di Esmara. Con morbida scollatura, insomma, vabbè. Però avesse molto bene, molto morbido, molto largo. Non è cotone, purtroppo è 95% viscosa. Però vabbè, in estate mettete lavate, si asciuga anche facilmente. Ma mi piaceva il colore ed è veramente, cade molto morbido. Quindi non è una cosa che rimane appiccicosa ad osso. Ed è costata 5,99. Poi sono andata anche l'altro giorno, cioè ieri, sostanzialmente, perché volevo la linea, quella edition summer e qualcosa. Però vi dico, ho trovato il cardigan, questo qua, 8,99. Era rimasto solo di questo colore qui. Questo rosa. Però non mi dispiaceva perché ha la manica a tre quarti e siccome ho un sacco di vestiti con la spallina sottile, volevo un qualcosa di leggero, questo è il tascone. È lungo, quindi arriva bene al fianco, copre bene il fianco. Ed è 100% cotone. Quindi l'ho preso anche per quello perché almeno non sudo, nel senso che anche adesso che c'è caldo, questo qua è ottimo per usare come, insomma, cardigan per questi vestiti senza maniche. Ed essendo che è anche di cotone, devo lavarlo, sudiamo meno. Poi ho preso... Ma perché? Ah, va bene, dai. Sì, perché ho dovuto girare due Lidl diversi perché uno non aveva la linea dell'estate. Comunque ho preso questi snack qua, non fritte, senza glutine. L'ho preso al formaggio, quelli rossi sono alla pizza e gli altri sono alla cipolla. Vediamo. Appunto non sono fritti, quindi contengono il 50% di grassi in meno. Sono sostanzialmente per cilieci, ma li ho presi perché appunto non è cosa fritta. Sono fatti di farina di riso, farina di mais, sodio di girasole e poi vari aroma, tipo questo aroma alla cipolla. Questo ha un gusto pizza e questo ha un gusto formaggio, contiene latte, prodotte a base di latte, incluso al lattogio. Però sono fatti molto 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 bene. E vediamo. Allora, il pacchettino sono 70 grammi, qua dicono per 100 grammi 419 calorie, sì, non è che sono 50% di grassi in meno, per carità, però sono calorici comunque. Però vabbè, a noi piacciono tantissimo. E gli ho pagati 75 centesimi all'uno, quindi veramente poco. Poi ho trovato anche, oltre alla linea estiva, ho trovato anche la linea dei Provenzali. Io ho preso il tonico viso biologico ad olcente effetto rinfrescante, l'estratto di rosa moschetta, pelli normali e miste. Questo qua l'ho pagato 2,75 euro di 200 ml. Qua c'è scritto apri, io apro, leggo. Qua vi fanno vedere tutto quanto, sostanzialmente non è testato sugli animali, energia pulita, 100% vegan, made in Italy, senza parabeni, siliconi, qualcos'altro. Poi dice, inci, rosa da maschina, flower, water e su allergeni, funzione acqua distillata di rosa da maschina, con proprietà dolcenti, rinfrescanti e rivitalizzati. Eritriol, l'hanno fatto molto bene perché vi spiegano tutti i componenti che cosa sono. Eritriol, zucchero di derivazione vegetale, con proprietà idratanti e rinfrescanti. Ordeum vulgare, stern water, acqua distillata di orzo, con proprietà dolcenti, betaine, amminoacido di derivazione naturale, con virtù idratante e protettive, sodium levulinate. Sinergia conservante di rivelazione naturale, dotata di alta compatibilità cutanea, citric acidi, stabilitore di pH, glicerina e quant'altro. E' fatto molto bene perché vi spiegano ogni singola voce, quindi complimenti. E poi ho preso una per mia mamma, che è questo qui, filler viso biologico riempitivo rughe, con attivi funzionali vegetali, deve essere il nuovo. Pelle normale miste però, appunto è riempitivo rughe, so che lei voleva un contorno occhi, quindi penso che questo qua più o meno gli possa andare bene. E questo l'ho pagato 3,99€, mentre io mi sono presa il mio contorno occhi, eccolo qui, il solito classico azzurrino, e l'ho pagato, vediamo un po', 2,99€. C'era anche altri mille prodotti, però sono abbastanza piena, volevo un po' finirli prima dell'estate, quindi ho lasciato stare, però io la linea del Provenzali ve la straconsiglio perché è fantastica. Poi, per quanto riguarda la Tropical Summer, ho preso soltanto gli spray, li ho pagati 1,99€ all'1, ho preso solo gli spray perché gli altri prodotti sono pieni di schifezze, tra cui paraffina, ciclopentasiloxane, dimenticone, paiga alti, quindi praticamente si salvano solo questi qua. Ho preso, questo non l'avevo provato l'estate scorsa, qua dice con olio di semi di albicocca e 10% di aloe, effettivamente l'inci qua è fatto benino, nel senso che non è cambiato l'anno scorso, non hanno messo siliconi e non c'è neanche il tetrasodium e DTA. Invece ho visto anche nei saponi che c'era pieno, pieno, pieno di tetrasodium e DTA, quindi ho lasciato stare. Così anche come nel dopo sole, quello gel aloe, ha il tetrasodium e DTA, quindi io, l'estate scorsa al mare, ho preferito questi qua perché comunque il tetrasodium, sappiate che, ve lo dico sempre, è abbastanza inquinante. E quindi se voi, specialmente nel periodo estivo, vi mettete queste creme qua tutti i santi giorni che contengono un tipo come quello lì, il tetrasodium e DTA, e poi vi fate la doccia tutti i giorni, non va tanto bene. Ecco, perché veramente è abbastanza inquinante. Quindi, anche come dopo sole, io ho preferito questo, poi ne avevo fatto in casa io uno con aloe, burro di karité, mi paro, burro di cacao, adesso non mi ricordo, e poi ci ho messo anche l'olio, l'essenza profumata all'anguria, quindi era fantastico. Però comunque in questo caso, se quest'anno non riesco a farlo, questi sono una valida alternativa anche perché contengono l'aloe, quindi va molto bene. E questo qui è al cocco con olio di mandorle dolci e aloe, appunto, mi era piaciuto tantissimo. E questo è burro di karité e aloe, è vero, anche questo mi era piaciuto perché sono stra profumati. E poi, vi devo far vedere, mia mamma, cosa mi ha comprato perché è andata lei da Primark, e mi ha preso un po' di robe perché ha detto che c'erano delle offerte pazzesche, comunque, sostanzialmente mi ha preso. Questo pigiama qui ha 6 euro, maniche corte con le meduse, e il pantaloncino è fatto così. Mi ha preso l'XL perché comunque ha letto sempre meglio comodi che ciucciati su. Poi mi ha preso anche questo qui, sempre a 6 euro, fatto così, con un pezzo di sirenetta pesce, non ho ben capito. Qua, questi sono i pantaloni, effettivamente sono enormi, però, ah no, questo è soltanto di bellezza. Beh, vabbè, poco mi interessa, nel senso che, ripeto, soprattutto in estate che si muore dal caldo, preferisco così. E poi mi ha comprato due camicie che erano, ragazze, cioè, a 1 euro. Io, infatti, oggi facevo conto di ritornarci per quel motivo lì, perché, insomma, delle camicie a 1 euro. Comunque, questa è la prima camicia, è bianca, con questi uccellini, maniche lunghe, però, lo si può usare anche come cardigan, tipo, no? Al posto del cardigan vi mettete la camicia, perché a 1 euro invece che 11 euro, e questa qui, vediamo. Anche questa, 1 euro invece che 11 euro, l'avevano ribassata a 5 euro, però si vede che probabilmente, spero ci siano ancora, perché... E poi, i colori sono quelli che... cioè, è rimasto quel che è rimasto, però, voglio dire, vabbè, chi se ne frega per 1 euro, e questa qua è l'altra. Bene, quindi, questo è tutto. Adesso vedo di sistemare un po', perché c'è un macello, ragazzi, un macello. Anzi, se qualcuno vuole venire a darmi una mano... Mamma, che stufa. Quando c'è da fare il cambio dell'armadio è una cosa che non sopporto, però... Cioè, bisogna farlo. Io sono un'accumulatrice seriale, quindi... La pago in questi momenti qua. Ecco. Io intanto vi mando un bacio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!